I maltagliati sono una pasta sempre a base di uova e vengono tirate una sfoglia un po' più alta rispetto alla sfoglia del tortellino e vengono tagliate in modo irregolare. Va fatto un sugo di sedano, carota e cipolla tritata, pomodoro e dei fagioli borlotti lessi. Poi va mischiato il tutto con i maltagliati, una bella spolverata di parmigiano reggiano e appena un po' di prezzemolo tritato. Deve rimanere abbastanza prodotto in modo da essere mangiata con il cucchiaio.